Tu sei fidanzato? No, non era Viola. Chi era? Un'altra. Se va bene, non lo seguo più. Mr. Kennedy non è fidanzato. Dove vai adesso? Ma tu non ti ricordo di me, vero? Era il 2012. Oddio. Guarda che non sono fidanzata, eh? No, non lo seguo. Non, non lo seguo. E che non si è capato? Buongiorno! Luca! Ciao! All of me was all of you Landscape change my point of view All of me was all of you Mi ha presente quando ti ho detto che Hai comunque avuto una storia come la più grande Spera Ma che cazzo feci? Ti ho anche imbattuto un bimbo? Certo Che non c'ho più un mineregistratore Grazie Ti tengo che ricordarti Non volevo ricordarti caso per te scusa Avevo detto i momenti sui sociali e volevo dirti che mi spiace Però se tu mi avessi parlare io non c'è molto da dire Niente, questo è strano Ogni tanto la sensazione che sei un po' a disagio Ho passato gli ultimi anni a lasciare tutte le ragazze che mi piacevano Non lo so Hai mai provato? Bene, allora che facciamo? Continuiamo a lasciare le ragazze piangere? Ti chiamo a viola? Ti chiamo a нужно dire il mia